E poi la guerra, amici e amici, la guerra. Ma questa guerra con quale via d'uscita la stiamo affrontando? Qual è la strategia? Vogliamo un negoziato di pace o no? Il governo dei migliori ci ha chiamato a una scelta, ci ha detto loro che sono grandi competenti, o pace o condizionatori, ma la pace è scomparsa dai rada e i condizionatori li abbiamo tutti spegnere, non sappiamo se potremo accendere i riscaldamenti per il prossimo inverno, che gran successo che stiamo accumulando.